Eccoci qua, lo spoglio non è ancora ufficialmente finito, ma possiamo dire onorevole Jimmy Cangiano. Nell'attesa di vedere e di capire le ultime sezioni, la prima cosa, a chi vuole dedicare questa vittoria e chi vuole ringraziare? Io ringrazio la mia famiglia, tutti i miei amici che da anni mi sopportano e mi sopportano come sono più di 20 anni e poi un ringraziamento a Giorgio Peloni che ha dato un'opportunità a me ma a tutta l'Italia vingendo questa vittoria. Grazie Giorgio. Allora, faccio le domande prima, io ho fatto una campagna elettorale soft perché la mia squadra mi diceva facciamo una campagna elettorale soft, facciamo i bravi, non ti asfugare. E mettete la giacca, senza giacca e cravatta. Sono tranquillo, sono sereno, da domani in poi inizia la battaglia serena. Dobbiamo cominciare a dare risposta al territorio e iniziamo. Degli allevatori di Bufa, di Solari Tomizzi, Polizia Penitenziaria e Sicurezza. Lo dobbiamo ai nostri elettori, ci siamo impegnati in questi mesi di campagna elettorale e lo faremo. Non consenteremo più a nessuno di trattare male la nostra provincia. Questo è un impegno che mi prendo con tutti i miei amici e con voi. Viva Giorgio Meloni, viva Fraternità. Grazie!